benvenuti amici youtube qui Ocran1993 oggi siamo qui alla casa dei giochi provincia di milano barra milano per l'ultimo digifest credo in presenza dei compagni qui di torino la location è molto carina veramente bella non ce l'avamo mai stati e quindi spero vada tutto bene nel frattempo che facciamo una piccola opening di un paio di event pack sono otto turni non avremo il tempo materiale per fare le cose scopertora otto turni avremo tempo per andare in bagno la prima volta che apro così comunque il pacchetto perfetto e foils sono tutte foils cosa è uscito? Dan Davymoon che figo! bello questo! 25 centesimi signori ah no valgono questi sono un professionista da aprirle oggi questo è veramente bravo ecco questo ce l'ho anch'io bellissimo bello come il sole questo è proprio bello bello come il sole bellissimo aspetta basta possiamo andare a casa vediamo io sono soddisfatto andiamo ma io sarei anche contenta giro piano andiamo a casa basta l'hai vissuta avrà vissuta è uomo mamma mia perchè queste siete? questo è un po' meno bello questo perchè tutte queste siete? onestamente è un po' meno bello hai visto come sono fortunata? eh 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 alcuni direbbero fortunata spesso Starmon Cat mamma mia eh no questo è bello questo è bello si gioca bello questo è una carta ok è una X e poi il resto vi rimando all'altro video raga perchè comunque i primi passano sui stessi ci sono i pack con mille pack quei digifest stamp sulle carte sulle uova le sleeves che sono per vedere sono 60 pare quindi ma quanto è bello quel di a Pokemon 4 bello ristampato e ristampato e quindi boh ragazzi ci risentiremo più tardi sicuramente riuscirò a fare ancora qualcosa dopo e boh se fate acquisti su Fantasia Store utilizzate il concesconto OCRAM5 per i vostri acquisti ciao Diego ciao ciao alle prevenzioni raga alla fine ho chiuso di nuovo Top 8 quinto voto signori entriamo nella zona calda Top 8 Top 8 Alessandro Sappone Ottavo raga ma lo riconoscete il tizio lo riconoscete il tizio che sta parlando lo devi sapere nei commenti Gabriele Casaro sesto Edward Abramov quinto classificato Marco Mitica Quanto classificato questo è più bello di questo questo te lo danno sempre è davvero molto questo è una 40 via Don Abbondio qua secondo classificato Luca Di Giacomo arriva il primo vince il Digimon Fest Milano Mohamed Abou qualcuno pensava davvero che Momo non l'avrebbe vinto grazie veramente di cuore a tutti non ricaccio a nessuno quindi se vi volete fermare un altro po' fate pure ragazzi chi deve già ripartire invece siamo pronti per i saluti grazie ancora a tutti davvero alla prossima eccoci qui siamo arrivato a casa come l'altra volta farò una specie di resoconto molto molto breve di quanto accaduto quindi questa è la fine del vlog mi sono piazzato al quinto posto il che non mi lascia troppo felice però vabbè comunque un ottimo risultato per carità ho portato Blue Hybrid la lista è praticamente uguale a quella che ho utilizzato a Parma poi ve la mostrerò sicuramente in un altro video magari con una spiegazione un po' più in profondità allora questi qui sono i premi della partecipazione praticamente gli stessi che abbiamo già visto quindi abbiamo un Digimon Fest set con lo Slash Angemon poi due con le bellissime uova di Coromon e non solo veramente veramente belle poi abbiamo uno e due con Diaboromon ora dovrei avere abbondanti settini di tutto anche di più un Event Pack 1 un Event Pack 2 che probabilmente aprirò e poi nuovamente un pacco di slip da 60 del Digimon Con molto molto belle tutte cose che abbiamo già visto che si spera non facciano più e che acquisiscano valore poi per passare il tempo se qualcuno fosse interessato ragazzi fatemi sapere nei commenti qui sotto scrivetemi il messaggio privato privato su Instagram per queste carte qua perché adesso ne ho di più potrei vendere proprio tutti i pacchetti in sé per sé con tutte le carte dentro che avete già visto quali sono poi adesso andiamo ad aprire questi per quanto riguarda il mio premio pur essendo arrivato al quinto posto il primo della top 32 non c'è il top 16 non c'è top 8 che mi lascia un po' deluso onestamente e poi non abbiamo raggiunto il quorum dei 64 player e quindi non è stata premiata la top 64 ovviamente e è andata così questa cosa qui non ho mia idea di come aprirlo abbiamo si spacchi tutto ok un altro set con lo slash angemon e poi a differenza di parma qua c'è solo un pacchetto appunto questo non è bene c'è solo un event pack 2 purtroppo e adesso comunque andremo ad aprire direi ok qua ha sfasciato tutto vabbè non si riesce a mettere a staccare non c'è bisogno che lo faccia adesso in camera uno con il diaboromon e un altro con le uova quindi onestamente come premi della top top 32 poi appunto avendo raggiunto il quinto posto non è che mi entusiasmi molto però vabbè eravamo pochi non è colpa sicuramente di chi ho organizzato che invece ringrazio molto perché sono stati veramente molto molto bravi i ragazzi di karts capital city ci hanno lasciato anche la loro penna molto elegante anche direi bellissima poi ah un'altra cosa che ho vinto ecco cosa dimenticavo è una pennetta usb questa qui è bellissima e sembra una cavolata ma è intelligente come idea fa pubblicità e poi è una cosa che serve a tutti nella vita di tutti i giorni ormai una chiave USB in più non fa mai male ed è anche molto bella esteticamente quindi questo qui è il premio più bello ovviamente poi ci hanno dato anche una goleador e e e e e e quindi sono soddisfatto per carità adesso andiamo ad aprire questo Missimon per concludere il nostro set di Missimon dato che troviamo solo quelli andiamo ad aprire con le forbici magari per evitare di sfasciare tutto cioè questo lo voglio aprire proprio perché ragazzi non è possibile che pullo solo i Missimon vediamo un po' Wargreymon che è l'altra carta che ho pullato l'altra volta cioè è pazzesco ci sono quante carte ci sono? quasi 20 carte sempre le stesse vabbè per carità questo è molto bello però pullare sempre la stessa carta non è il massimo vediamo se gli event pack 2 ci portano più fortuna da qui abbiamo pullato il Garurumon vediamo Impomon ok ci posso stare carino non è nelle mie corde roba viola però almeno una carta diversa e proviamo anche a pullare l'altro per concludere per concludere un argomon questo è già più bruttino però vabbè almeno sono carte diverse quindi con gli event pack 1 ho capito che non li devo più aprire ok quindi per oggi è tutto ragazzi mi ha fatto molto piacere vedervi a Milano qualcuno di voi mi ha riconosciuto sono contento e la community sta crescendo e ne sono molto molto lieto quindi per oggi è tutto ragazzi iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici che amano i Digimon e se fate acquisti su Fantasia Store utilizzate il codice sconto OCRAM5 per ottenere 5% di sconto sul vostro acquisto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti